Cos'è l'ictus? Come si riconosce e come si cura? Quali sono le procedure corrette e i comportamenti da tenere? Le istruzioni per l'uso di questa seconda puntata di Missione Salute Marche Nord presenterà l'unità operativa di medicina interna con i suoi 104 posti letto e gli oltre 3.700 ricoveri nel 2015 e il fiore all'occhiello, la stroke unit dove si curano i pazienti colpiti dall'ictus. Ospite della puntata il direttore dell'unità operativa di medicina interna. Parleremo della medicina interna, il reparto più corposo dell'azienda Marche Nord che si distribuisce tra il presidio San Salvatore e il presidio Santa Croce con tanti posti letto, tanti pazienti e tanti problemi da risolvere. Un fiore all'occhiello di questo compressorio è la stroke unit, che cos'è e di che cosa si occupa? La stroke unit è una struttura, sono 5 posti letto in cui abbiamo dedicato delle risorse solo alla patologia cerebrovascolare. Sono letti monitorizzati con assistenza infermieristica dedicata, con dei medici esperti in problematiche vascolari e neurologiche e dove accettiamo i pazienti con ictus ischemico acuto. Siamo autorizzati ormai dal 2009 a effettuare la trombolisi che è l'unica terapia efficace nella fase acuta di alcuni ictus ischemici e proprio lo scorso anno abbiamo fatto 30 procedure di trombolisi. Ecco, naturalmente il telefono aperto, il colloquio con i telespettatori è un momento importante anche di confronto. Sarà un piacere per noi ascoltare e dare delle risposte dove le abbiamo a tutte le problematiche sulle sedute della persona. Il confronto con i pazienti è fondamentale perché ci può aprire gli occhi a delle cose che noi potrebbero anche sfuggire. Nella seconda parte della puntata i telespettatori potranno rivolgere domande direttamente ai medici ospiti in studio attraverso le telefonate chiamando Fanotv allo 0721 861433 dopo le 20.45 al termine del telegiornale Occhio alla Notizia.